www.feyyaz.tv Ancora non aveva capito Stanno pagando No, 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 non vi voglio Vi mandati a cuore, spescello Faccio pure il navigatore, mi meraviglio, pure dice Faccio il navigatore Fai male il navigatore, è impossibile che la macchina va all'interno Ah, senti un po' Hai pensato che tu sai da pubblico che ti devi lavare Va bene, vuoi vedere la cavola, la cara Là, dietro la lancetta è blu, là La zona lo è riservata a pubblico Va bene, se no No, vedi un po' dove sei forza Là stai male, sì Là, là, dove stanno altre persone Là E allora cosa fai da me? Là, zona... Qua non basta una macchina Non basta nessuno Non basta o non basta Vai giù a capoprovi Ah, sta a dire E' impossibile che la macchina va all'interno Ma perché non li ha qui? Sì Sì Io stavo all'interno Io stavo all'interno Allora, capito perché? Perché è una macchina Se la lontano all'interno Io stavo all'interno Sì 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 Sì